hey guys benvenuti sul canale degli amendola brothers io sono jonathan ed eccoci qui ragazzi per una nuova sfida su nba 2k 15 questa volta grande sfida richiestaci dal nostro iscritto frank de leon e la sfida è stefan curry contro paul george stefan curry dei warrior contro paul george dei packers e io ho scelto curry perché quello che mi sta più simpatico che mi piace di più come gioca vediamo subito se riusciamo a fare un canestro niente abbiamo già sbagliato abbiamo iniziato proprio bene come dico io ecco pure grande schiacciata mi sta già distruggendo appunto per parlare sono iniziato proprio una schifezza ma quindi ho scelto stefan curry vediamo se riusciamo a fare qualcosa lui è molto più bravo con i tiri da tre infatti ci proviamo adesso infatti la insacchiamo e ribaltiamo subito il risultato grande stefan curry grande sfida grazie ancora a frank de leon per avermela richiesta mi è piaciuto subito appena l'ho vista continuate a scrivermi nei commenti le vostre richieste prese no le vostre richieste le vostre sfide con i giocatori del presente del passato e mischiare anche in due contro due eccetera eccetera grande stefan curry lo dribbla è grande grande tiro in sottomano per lui passa di nuovo in vantaggio 3 a 2 si arriva sempre a 21 vediamo se riusciamo a stopparlo stavolta è riuscire a recuperare la palla lui mi spinge si fa indietro tira e la insacca è porca di una miseraccia vabbè vabbè proviamo di nuovo da tre visto che curry se lo può permettere no come shakiel o'neill nella scorsa sfida vai tira ho tirato abbastanza bene ho fatto schifo prima invece avevo tirato male ed è andata dentro succede sempre così purtroppo vediamo di fermarlo paul george dove vai dove vai dove vai se il pallone non ce l'hai vai un po di e un po di giochetti e come lo dribbla perché non ha fatto la schiacciata l'ha buttato così proprio a dire vai vai dentro vai da solo non ti preoccupare proviamo a togliere la palla vai vai scrivetemi sempre nei commenti ragazzi anche i consigli su come migliorare e giocare perché ammetto che non sono proprio un pro un pro player ma c'è cerco di fare del mio meglio mi ci diverto quindi va bene vai grande mamma mia come se l'hai dribblato mamma mia che m'ha stoppato che m'ha stoppato appunto avevo appena detto non sono un pro player e lo vediamo subito non mi smentisco niente niente sto facendo proprio una schifezza una schifezza no tiro pure da tremo ha sbagliato meno male la recupera la recupera stephen curry prova a passare prova a passare e come lo dribbla mamma mia questa è stata una bella giocata ragazzi per esempio questa è stata una bella giocata questa dimostra che non sono proprio super scarso e questo invece lo dimostra per esempio va bene proviamo proviamo è così la sfida 1 contro 1 deve essere così deve essere in lotta fino alla fine sono due grandi giocatori due grandi campioni quindi e vediamo se riusciamo a smarcarci e la butta dentro di classe stephen curry di classe quindi vediamo di nuovo 6 a 6 molto combattuto per il momento spediamo di non che non lui non dilaga la difficoltà ragazzi è sempre quella che nelle altre la stessa delle altre sfide ovvero ovvero una difficoltà meno della massima cioè non nella difficoltà massima ma se non sbaglio si chiama al star non ricordo lo settata molto tempo fa quindi non ricordo però una prima della massima e grande marcamento e stephen curry la butta dentro quindi appunto per essere equilibrata per non vincere sempre io se mettevo difficoltà troppo bassa vincevo sempre io perché appunto l'altro stava fermo mannaggia la miseriaccia devo passare in vantaggio devo provare da tre basta oppure due due cerchietti rossi e quindi cipro una rossa addirittura ho fatto del tiro rosso addirittura proprio come quegli scarzoni mega scarsi proprio che fanno gli scarzoni scarzonati così ho fatto proprio stephen curry vediamo vediamo se riesce riesco a smarcare riesco a marcare non smarcare e gliela stoppa gliela stoppa grande 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 prova ad andare a fare il giro ci prova di nuovo da tre questo è buono questo è buone si insacca grandissimo passa in vantaggio con un solo canestro stephen curry porta si porta a 9 e l'altro è a 8 proviamo a bloccarlo di nuovo con un'altra stoppata niente perché va sempre dentro perché un po il george è bravo proprio a fare queste cose lo strupido è capito lo strupido e noi noi lo facciamo lo facciamo lo scartiamo lo scartiamo lo dribbiamo così tipo tipo così tipo tipo così tipo tipo facendo le figure di cacca tirando così e buttarla dentro però è non sono figure di cacca queste sono grandi punti grandi punteggi vai vai strupido vai strupido vai che lo fermi vai che lo fermi vai corri vai corri vai corri no corri c'è strupidata non ci fate caso a volte ogni tanto salvatore mi ha infettato a queste strupidate niente niente non mi fa passare il bagarosto non mi fa passare vai una bella triblata e e e proviamo da qua e la insacqua è stato proprio proprio semplice diciamo il tiro e stephen core è quello che è quello che mi piace molto come gioca vai vai non lo facciamo passare non lo facciamo passare mannaggia va dentro 11 niente proprio pari pari siamo lì pari pari non riusciamo a portarci nessuno a distanziarci grande salto e la butta dentro 12 a 11 ci avviciniamo siamo a metà a metà punti ci avviciniamo verso la fine e chi la scamperà non si sa ancora chi potrà vincere chi potrà vincere dei due niente niente 12 a 2 non riesco proprio quando lo stoppo e perché sono in svantaggio e facciamo sempre siamo sempre la siamo sempre la no sbagliato stavolta stavolta sbagliato l'ho visto già mannaggia che non andava dentro rubiamogliela rubiamogliela non facciamoci sorpassare come degli strupidi fermalo fermalo vai a sbagliato no che ha fatto quella palla mi devo riportare in vantaggio con un tiro da 3 così devo fare devo solo fare così no 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 che tiro di cacca no adesso lui la butta dentro no no si è portato a 15 devo provare solo tiro da 3 adesso perché tanto a recuperare non la recupero mai questo era buono questa era buona perché non vai dentro perché bagarospo mannaggia adesso questo si porta a quattro punti ma porca di una miseria devo fare due tiri da 3 cioè che sono due punti in uno contro uno però due tiri da fuori ma perché non ci va dentro vai la recupera e vai e vai 13 almeno non ho fatto la figura di cacca ho recuperato una grande palla vai di nuovo vai di nuovo sei un grande difensore stefan curry ce la puoi fare dimostra la tua potenza grande buttala dentro no non è nemmeno da fuori grande recupero mamma mia come te l'ha rubata mamma mia mamma mia questa è stata grande questa è stata grande stefan curry grande grande driblaggio e grande schiacciata vola vola nonostante non sia molto alto stefan curry riesce a volare mamma mia vai che stiamo recuperando vai che stiamo recuperando è bravo a rubare da quello che sto vedendo stefan curry è un ladro ha sbagliato e vai grande grande adesso ci portiamo in pareggio guardate come ci portiamo in pareggio guardate niente la recupera è la insacca grande grande 15 a 16 stiamo lì lì stiamo lì lì proprio lì vicino ho due strisce rosse due cerchi rossi che battono vuol dire che sono proprio in enfasi proprio vai 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 no mannaggia devo pareggiare devo pareggiare non mi interessa ho i due cerchi rossi posso pareggiare eh ma porca miseria meno male che sei insaccata meno male anche se non era da tre se no questo si portava ancora di più in vantaggio vai che vai che gliela togli vai che mancano gli mancano solo quattro punti a lui se li fa buonanotte mannaggia vai stefan curry credo in te credo in te da qua niente 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 basta ti ti da tre basta se recupera recupera normale grande grazie del tiro di cacca paul george grazie e vai la insacca la insacca ancora stefan curry non si fa non si abbatte non si abbatte che è successo fallo in allungo mi la palla di nuovo a lui no meno male meno male quella andava andava al canestro così non fa nemmeno il tiro dall'annetto cioè c'è la palla a lui ma non gli ho fatto fare canestro non so è un po imbrogliare però pazienza ma è che gliela togliamo vai e vai grande grande vai corri ma che fa dormi attirato attirato ma sbaglia sicuro era impossibile segnale da così lontano cioè era possibile però c'è uno su mille ce la fa posso pareggiare adesso non sprechiamo l'occasione stefan curry curry non sprechiamo l'occasione grande triplaggio e grande struvidata grande struvidata no io ho fatto fare anche da tre ma perché adesso è a 20 che manca un solo punto non devo farlo segnare a tutti i costi non mi fa passare il bagarospo non mi fa passare devo fare solo così ma niente non deve segnare no non andare dentro grande grande recupero è ancora viva la partita la partita è ancora viva la partita è ancora viva vai stefan curry non deludermi ma perché mi da sempre rosso perché sono uno strupido che voglio tirare sempre da tre no 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 va verso la vittoria paul george porca miseriaccia e vabbè bella sfida fino all'ultimo sangue a parte qualche mia strupidata in più però pazienza ragazzi è andata così che devo fare purtroppo ci ho messo tutto il mio impegno va bene quindi vince paul george nella sfida stefan curry paul george appunto grazie ancora a chi me l'ha richiesto e scrivetemi nei commenti appunto alle altre sfide che volete vedere cercherò io cerco di accontentare un po' tutti non prendo mai lo stesso che ha scritto la sfida cioè a meno che non sia una bellissima sfida perché appunto voglio dare la possibilità a tutti di vedere la propria sfida in gameplay grazie ancora a tutti voi che seguite se vi piace la sfida come sempre cliccate un bell mi piace iscrivetevi al nostro canale se non siete iscritti passate dalla pagina facebook amendo la brothers potete trovare il link in descrizione grazie di cuore a tutti condividete questo video su facebook twitter e google plus ovunque ve lo vediate e se per caso il gameplay non vi è piaciuto cosa che può capitare da parte di paul george grazie ragazzi da jonathan mendola e di mendola brothers al prossimo video ciao a dio